del titolo della mostra Una vita, vive lo spirito di tutta la sua epoca nell'intreccio di un continuo rimando a un'arte passata che arriva oggi ad una seta di Lione, grande tributo a Sandro Botticelli e ad un tessuto che ricorda le grandi trammature dell'arte del passato. Cari amici, va ora in onda proposte di investimento a cura di Francesco Boni che vi consiglierà le opere d'arte più preziose sia per la vostra collezione che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Carissimi amici, buona giornata. Buona giornata e vi avverto, ieri i nostri amici che hanno seguito la trasmissione hanno comprato delle opere straordinarie a cifre incredibilmente piccole. Oggi si ripete questo piccolo miracolo, ma per l'ultima volta, perché Antonio cosa è successo ieri? è che colui che ci aveva affidato le opere ci è rimasto talmente male per i prezzi. Oggi abbiamo la seconda fase di questa possibilità. Quindi un committente che ci ha lasciato una collezione straordinaria, adesso ve la farò vedere, ma già vedete, forse il quadro più bello che Ennio Finzi ha dipinto nella sua vita. Lo vuole l'archivio, lo vogliono tutti coloro che adorano Ennio Finzi e tutti coloro che lo considerano per quello che obiettivamente è uno dei punti di riferimento del rinnovamento della pittura veneziana da Tancredi in poi, ma un quadro straordinario non solo per dimensioni, ma per qualità. Cosa è successo? Che ieri abbiamo avuto la possibilità di mettere in gara una collezione straordinaria praticamente senza prezzo. I prezzi li avete fatti voi. Unica condizione per difesa delle opere, tre concorrenti diversi. Ieri molti amici si sono arrabbiati. Perché? Perché? Perché facevano la terza offerta, però erano persone che avevano già fatto o la prima o la seconda. Quindi non potevo accettare che l'opera entrasse in gara. Perché l'unica difesa oggi, come ieri, sono le tre offerte diverse. Poi che cosa ho detto ieri e qualche cliente si è lamentato? Che ogni tanto in una trasmissione del genere interviene anche o uno sconosciuto, nuovo cliente, quindi sul quale dobbiamo fare degli accertamenti prima di accettare l'offerta, oppure clienti che sono soliti prenotare e non ritirare. Ecco, quelli oggi in queste trasmissioni, gli chiediamo, quelli che hanno dei dubbi, gli chiediamo di non partecipare, vero Antonio? Gli chiediamo di non partecipare perché gli affidatari in queste trasmissioni vogliono essere, giustamente ti danno la libertà sul prezzo, ti fanno comprare delle opere straordinarie alla metà, a un terzo di quello che valgono, ma vogliono i soldi subito. Quindi coloro che vogliono, ecco, coloro che hanno sempre dei dubbi, vogliono vedere l'opera, poi ci pensano, poi la cambiano, poi non la ritirano, oggi vi preghiamo di non partecipare, a meno che questi dubbi non siano sconvolti dalla certezza di poter comprare delle opere a un prezzo a cui non le comprereste mai. Allora, non vi rubo tempo perché le opere sono tante e voglio farvi vedere, prima di tutto voglio farvi vedere, con l'aiuto della regia, due opere straordinarie che sono rimaste di ieri, il grande Schifano, il satellitare strepitoso, che oggi lo definiamo fuori catalogo, lo puoi far vedere Carmelo, ecco, lo facciamo vedere immediatamente, eccolo qua, è una meravigliosa tela computerizzata, straordinaria, un metro per un metro e quaranta, legato al tema della comunicazione, il mitico satellitare, quindi un'opera di Schifano di un'attualità straordinaria, io ho visto, se siete a Roma potete andare oggi alla nuvola e andare a vedere la grande fiera, ecco, un cento centoquaranta come quello, come quello, pubblicato come quello, della stessa dimensione, un metro per un metro e quaranta, chiedono 35 mila euro. Oggi questi sono i prezzi degli Schifanoveri, opera preziosa e a vostra disposizione, con il numero zero, quindi chiedetelo al centralino, anche lì potete fare le vostre proposte e con tre proposte diverse entra in gara. Poi c'è un'altra opera straordinaria, questo è Mambor del 1962, che è il quadro chiave, il padre di tutta la filosofia di Mambor. Vedete quel cavallo in movimento che nasconde la sagoma di un essere umano, che nasconde la sagoma di un essere umano, questo essere umano che vorrebbe salire su quel cavallo, ma ha una pistola puntata. Quindi è il momento in cui Mambor prende coscienza di quello che diventerà la base del suo pensiero e da quel quadro nasce l'idea dell'arte povera, con Emilio Prini, con Germano Ceylant, quindi una delle opere più importanti della storia dell'arte degli anni Sessanta. Quanto vale? Un'opera del genere non a prezzo. Se fosse da Sotheby, se fosse da Christis, sarebbe una di quelle opere che fanno 80.000 sterline, 100.000 sterline. Avete la fortuna di poterlo acquisire. Inutile dire che sarò rigorosissimo sui tre concorrenti, cioè i tre concorrenti devono essere tre concorrenti agguerriti, quella è un'opera che è già nella storia e resta incancellabile nella storia dell'arte. Quindi due opere straordinarie, due opere clamorose, sulle quali richiamo la vostra attenzione e vi chiedo di formulare immediatamente le vostre offerte per fare entrare in gara quei due gioielli che normalmente vi dovrei chiedere delle cifre estremamente importanti. Ma andiamo sul set insieme all'opera di Agno Finzi e vi faccio vedere tutta una serie di opere di una bellezza straordinaria sulle quali potete fare le vostre proposte economiche. Ho al numero uno, ho un'opera strepitosa di Malipiero, questo meraviglioso artista bresciano scomparso, l'autore di queste mitiche osmosi. Oggi le opere di Malipiero le hanno le più grandi gallerie internazionali. Qui vedete Monica Bellucci con la Torre Eiffel, questi osmosi, questi miti, queste leggende. L'opera è pubblicata a pagina 118 del catalogo generale dell'opera di Malipiero, misura 95 per 97,5. Vale 10 mila euro. È in gara libera, come tutte le opere di oggi. Poi al numero due, tre, quattro e cinque, sono quattro gioielli piccolini. Quando vi dico che Fabrizio Tedeschi, i suoi totem fanno la fine di Boetti, mostra in Giappone, mostra in Cina, successi internazionali, sacralità egizie, totem urbano, totem cittadino. 16 per 16,5, sono quattro gioielli di Fabrizio Tedeschi. Li potete comprare singolarmente oppure tutti e quattro in un lotto unico. Mi raccomando, non perdeteli. Ma direi di comprare tutti e quattro insieme. Ma volendo li potete prendere tutti e quattro insieme, ma fate voi, fate voi, fate voi gioielli, gioielli. Poi, un artista sul quale questo è l'ultimo dei grandi estroplessori. Quello che è successo a Turgisimeti sta succedendo a Giuseppe Amadio. Turgisimeti lo portò mia moglie alla Biennale di Venezia del 2007, che costava 2.000 euro, oggi costa 70.000-80.000. Giuseppe Amadio, stessa cosa, ultima Biennale di Venezia. E questa è una delle opere esposte all'ultima Biennale di Venezia alla quale è stato invitato Giuseppe Amadio. Sami 25, 70 per 70, opera preziosa di Giuseppe Amadio, tutto in gara libera, tre concorrenti e diversi e iniziamo la gara. Poi, al numero 7, c'è un'incisione storica, a me dispiace perché state confondendo le Fotolito con le incisioni storiche. Questa è un'incisione storica di Giuseppe Santomaso, un'opera dell'89, un'opera di più di 30 anni fa, pazzesca di Giuseppe Santomaso. Oggi un'incisione storica di Santomaso così costa 4.000-5.000 euro. E' in gara libera, incisione storica dell'89, 85 per 70 di Giuseppe Santomaso. Quindi dei gioielli da museo, da grande collezione, che oggi avete la possibilità di acquisire all'apprezzo che volete voi. Tre concorrenti ed entrano in gara. Giuseppe Santomaso da sogno. Poi, Gastone Bigi, il quadro più importante che abbiate mai visto. La mitica fabbrica degli angeli ribelli, atto 22esimo, 1,40 m per 1,80 m. Il quadro di Bigi, capolavoro per Antonomasia. è considerato il quadro chiave dell'opera di questo straordinario artista. 1,40 m per 1,80 m. Opera che presentata dieci anni fa faceva 70.000-80.000 euro. A vostra disposizione, in gara libera, opera preziosa e poi un emblema storico, un emblema strepitoso del 1970. Sono le opere storiche di emblema. 1,30 m per 1,10 m. Le opere che oggi, se andate alla fondazione emblema, vi chiedono 30.000 euro. Opera storica del 1970, un metro e trenta per un metro. Opera preziosa di Salvatore Embleme. Poi, gioiello di Fabrizio Campanella, opera del 1993. Opera del 1993, un metro per 70. La nuova astrazione di Fabrizio Campanella fa sì che quest'artista venga considerato uno dei grandi della contemporaneità. Poi, un'incisione storica di Guttuso da Pavola, il mitico autoritratto, il mitico autoritratto, mentre sta disegnando, opera preziosa, incisione preziosa, di Renato Guttuso. Poi, tutta una serie di opere pubblicate su Close Up, il mitico libro di Marziani, Maddalena Mauri, 27 per 20, questo gioiello, questo paesaggio, e quattro opere, una più bella dell'altra, di Giorgio Lupatelli, che ci racconta la storia da Giotto a Damien Hirst, Le Levage du Poissier, tutte opere piccoline, 15 per 15, legate alla mitica pubblicazione della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Close Up, quattro gioielli di Giorgio Lupatelli. Poi, lo trovate da Sotheby's, lo trovate da Christis, mitica, Antonopetri, di Yves Klein, tiratura limitata, esemplare numero 89, 78 per 55. Un'incisione così di Klein costa 30 mila dollari, 30 mila dollari, forse un olio, molti milioni di euro. Opera storica di Yves Klein, l'Antoropetri, fatta vent'anni fa, è del 2000, è del 2000, da urlo, da urlo, opera che non trovi mai nelle aste e nella tradizione italiana. Poi, il logo di Dublino del 1995 di Piero Pizzicannella, 60 per 80, opera vera, pazzesca, storica, il logo di Dublino, opera mitica di Piero Pizzicannella. Matteo Rossello, l'uomo, il mare, la nuvola, 1970, olio, 70 per cento. Ma vi rendete conto di quello che vi sto facendo vedere oggi? Quello che non vedete mai, quello che vedete solamente nei musei, dall'incisione di Klein ad un'opera del 70 di Matteo Rossello. Poi, una piattaforma storica, grandiosa, di Arturo Vermi, 80 per 60, del 1973. Altro artista pazzesco, altro artista della Milano degli anni 60, altro artista sul quale c'è un recupero concettuale insieme alle opere di La Pietra, D'Aurlo, opera preziosa di Arturo Vermi. Poi, il finzi più clamoroso della storia del quale vi ho parlato proprio in apertura di trasmissione. Mi date le dimensioni esatte di quest'opera di Finzi? Certo. Ecco, ma è la dimensione? Si tratta di una 150 per due metri. Un metro e mezzo per due metri. Lo posso dire, anche se è un termine che chi mi conosce sa che non mi piace usare, il capolavoro, l'opera più importante che Finzi abbia dipinto nella sua vita. Un metro e cinquanta per due. Poi, iperpubblicato, storico, le mitiche torture di pelle di concetto Pozzati, iperpubblicato, storico, un metro per un metro e venti. attenzione, attenzione, su Pozzati c'è un recupero straordinario, opera pubblicata, opera storica. Poi, Sergio Lombardo, 30 mila euro, un'opera così di Sergio Lombardo, La Foresta, numero 5, un metro e cinquanta per un metro, uno dei capolavori assoluti della stocastica. Lombardo, Lombardo, Mambor, sono gli artisti che nei prossimi mesi pagherete quanto pagate oggi Boetti. e Mambor andrà molto al di sopra dei prezzi di Boetti. Oggi non comprare Mambor, non comprare Lombardo, è come ieri non aver comprato Burri, Fontana, cioè gli artisti che diventano mito, gli artisti che diventano leggenda, concettuale e di mercato. Guardate, comprare un'opera di Sergio Lombardo oggi significa moltiplicare il proprio capitale a livelli inimmaginabili. Opera grandiosa di Sergio Lombardo. Poi, l'opera più famosa nel mondo di Gastone Bigi, la mitica lettera non voluta del 1960, quindi una delle opere più importanti della storia di questo artista, una gemma da close-up di Franco Marrocco, una gemma da close-up tipica di Franco Marrocco, e poi sempre da close-up nella mitica scatola magica il mitico paesaggio in scatola di Luca Piovaccari, un'opera piccolina ma che è diventata una leggenda pubblicata sul mitico libro di Marziani Close-up. Poi la prospettiva magica l'opera più importante di Fabrizio Campanella iper pubblicata questa è la mitica camera magica è un'opera fotografica ma che viene considerata la più importante delle opere di Fabrizio Campanella una su una un'esemplare al mondo un'esemplare al mondo la camera magica prospettiva numero due è iper pubblicata se considerata l'opera più l'opera rivoluzionaria dell'astrazione contemporanea la critica moderna considera quest'opera la rivoluzione dal punto di vista dell'astrazione vale qualsiasi cipra misura un metro e dieci per un metro e cinquanta è un'opera iper pubblicata vale un capitale poi di Fabrizio Tedeschi quella che viene ritenuta l'opera fondamentale il totem rosso il totem rosso un metro per un metro opera fondamentale opera straordinaria di Fabrizio Tedeschi e chiudo con l'opera più pubblicata questa è pubblicata nei cinquanta quadri fondamentali di Salvatore Emblema un metro e cinquanta per un metro e trenta opera storica grandiosa di Salvatore Emblema pubblicata su quel mitico libro guarda che cos'è è più bella di Rotko capito se cambi il fondo cambia un pelo certo perché è una tela di tessuta è più bella di Rotko è più bella di Rotko è il punto d'arrivo dell'opera di un artista geniale come Salvatore Emblema avete visto che vi ho messo vi abbiamo messo a disposizione oggi una serie di opere da far paura da far paura e i prezzi li potete fare voi saremo rigorosi sulle tre offerte per entrare in gara adesso tocca a voi adesso tocca a voi ditemi quali sono le opere che vi hanno colpito fate le vostre proposte economiche noi guardate oggi anche se non presenterò tutte le opere non mi interessa oggi aspettiamo le vostre proposte economiche tre concorrenti diversi l'opera entra in gara ma la qualità l'importanza delle opere che vi sto facendo vedere oggi un Malipiero così lo trovate da tornabuoni pubblicato sul catalogo generale per Malipiero Franco 500 euro buona a 500 euro compri le litografie è una prima offerta non certo certo è una prima proposta è una prima proposta opera pubblicata di Malipiero da Monica Bellucci con le mitiche torture Eiffel delle mitiche osmusi prima proposta 500 euro abbiamo la prima offerta anche per la 14 Franco 100 euro dunque la numero 14 è quel viaggio da Giotto a Damianirst di Giorgio Lupatelli il numero 14 opera pubblicata pagina 176 di close up 100 euro per quel gioiellino di Giorgio Lupatelli prima offerta anche per la numero 22 Pozzati 2000 euro Franco un po' pochino molto poco va bene ma sono le prime offerte sono le prime offerte opera pubblicata su Io sono di pelle 100% 20 di concetto Pozzati 2000 euro la prima proposta 2000 euro la prima proposta 100% 120 di concetto Pozzati 200 per la 14 allora per la numero 14 per il gioiellino pubblicato di Giorgio Lupatelli siamo seconda offerta 200 euro abbiamo anche la terza offerta 300 euro Franco 300 euro per il Lupatelli è vostro è vostro pubblicato opera pubblicata da Giotto a Damianirs a pagina 176 del mitico libro di Marziani close up 300 euro è la prima opera che entra in gara è la prima opera che entra in gara quel gioiellino di Giorgio Lupatelli che è successo sta volando via tutto allora vi faccio vedere il libro perché è estremamente interessante questo è il libro che Marziani ha proposto per la mitica mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e praticamente presentava tutti gli artisti assolutamente innovativi eccolo qua vedete Giorgio Lupatelli ed ecco l'opera proprio come era esposta al museo eccola qui 300 euro per la prima 300 euro per la seconda 300 euro se non replicate io devo assegnare anche se è un gioiellino che ne vale 1500 2000 così proprio a buttarlo via 300 euro opera esposta e pubblicata non alla mostra di Pernacchio Pernacchiotti alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna pubblicata da Marziani tra l'altro Marziani l'autore di quel libro che ha pubblicato quell'opera è il curatore di Banschi in Italia tranto per farvi capire 300 euro e io l'assegno ma questo vi dà la dimensione di quello che accade oggi 300 euro per la prima il prezzo è netto non ci sono diritti aggiunte diritti di Asta o cose del genere 300 euro per la prima 300 euro per la seconda 300 euro per quel gioiello di Giorgio Lupatelli è la prima opera che vi abbiamo regalato oggi 300 euro per l'opera di Giorgio Lupatelli ci sono gli altri tre gioielli di Lupatelli c'è la 13 la 15 e la 16 c'è la 13 la 15 e la 16 eccoci qui bene allora cosa succede cosa accade oggi è la vostra giornata siete voi che dovete dirmi mi interessa quell'opera siete voi che dovete farmi le tre offerte abbiamo ricevuto anche la prima offerta per Pizzi Cannella 2000 euro 2000 euro per quell'opera di Pizzi Cannella al numero 18 l'oro di Dublino olio 60 per 80 del 1995 prima offerta per l'oro di Dublino di Pizzi Cannella 2000 euro in qualsiasi asta lo pagate 7000 8000 euro più i diritti in qualsiasi asta prima offerta 2000 euro fate voi fate voi fate voi fate voi oggi inutile che ve lo dica è la vostra giornata abbiamo la prima offerta Franco per la numero 13 100 euro allora per il numero 13 di Giorgio Lupatelli c'è un'offerta di 100 euro 100 euro anche per il numero 13 che vi consiglio di prendere in coppia con il numero 16 vedete 13 e 16 sono due varianti della stessa idea poi pubblicata la numero 15 poi pubblicata la numero 15 fate voi 100 euro per Lupatelli poi Franco chiedono la presentazione del BG numero 8 amici Gastone Bigi è un mito Gastone Bigi è una leggenda Gastone Bigi è l'artista che domina la cultura romana degli anni 60 sostenuto da Argan sostenuto da Argan ed è il controaltare dell'evoluzione pop il continuatore proprio dell'astrazione italiana Bigi oggi potete comprare i capolavori di Bigi a prezzi clamorosamente piccoli questa è l'opera chiave è l'opera in cui lui racconta con la scusa della fabbrica degli angeli ribelli il rapporto tra rinnovamento della pittura degli anni 60 al di là del pop e la continuazione dell'astrazione italiana che si coniuga con lui sosteneva la stessa matrice tra astrazione e figurazione l'opera un metro e quaranta per un metro e ottanta è stata venduta ai tempi di telemarket 80 mila euro 80 mila euro oggi è in gara libera oggi è in gara libera non ci sono diritti d'asta non c'è nulla oggi è la giornata nella quale potete acquisire le opere più clamorose ai prezzi più incredibili fate voi una proposta economica su quell'opera di Gastone Bigi o con tre concorrenti diversi al centralino saranno attenti che i tre concorrenti siano diversi perché naturalmente se la prima offerta me la fa un amico della seconda la moglie dell'amico la terza il suocero non le posso considerare tre offerte ricevuta la seconda offerta per il pizzicannella siamo a 3 mila 3 mila euro seconda offerta per l'opera di pizzicannella con la terza offerta entriamo in gara con la terza offerta entriamo in gara ditemi voi quello che mi offrite per quest'opera clamorosa di Gastone Bigi venduto da me a telemarket quando è stato una quindicina d'anni fa 80 mila euro fate voi fate voi fate voi opera di Bigi clamorosa fate voi la prima proposta fate voi la prima offerta 5 mila 5 mila oh marì oh i marì oh marì oh marì ha gioperto su suono per te 5 mila euro 5 mila euro per un'opera del genere di Gastone Bigi dai è una prima offerta vediamo vediamo quello che succede vediamo quello che succede la mitica fabbrica degli angeli ribelli è l'opera chiave è l'opera fondamentale di Gastone Bigi 5 mila euro 5 mila euro abbiamo 500 euro per Amadio numero 6 Franco la prima offerta il numero 6 Amadio 500 euro ma è l'opera di Amadio esposta in occasione dell'ultima biennale veneziana esposta a Venezia in occasione dell'ultima biennale di Veneziana estroplessione storica di Giuseppe Amadio 70 per 70 500 euro prima proposta 500 euro prima proposta allora non ho ancora opere in gara vi faccio il riassunto delle proposte il Malipiero pubblicato l'Osmosi Monica Bellucci e la Tour Eiffel pubblicato 500 euro prima proposta poi c'è il gioiello di Amadio 70 per 70 dalla biennale di Venezia 500 euro prima proposta il Gastone Bigi da favola 140 per 180 5.000 euro prima proposta poi abbiamo per Giorgio Lupatelli l'opera numero 13 100 euro e prima proposta e per il Pizzi Cannella l'oro di Dublino 60 per 80 del 1995 3.000 euro seconda proposta seconda proposta cosa mi fate entrare in gara ditemi voi ditemi voi poi c'è il Vermi il grande quadro di Finzi l'opera di Pozzati quella grande opera di Sergio Lombardo l'altra opera storica di Bigi poi l'emblema tante opere pubblicate a vostra disposizione e i due gioielli che chiedo alla regia di far rivedere la grande opera di Mario Schifano il mitico satellitare un metro per un metro e quaranta e l'opera chiave del 62 di Mambo l'uomo invisibile opera storica del 1962 di Renato Mambo amici tocca a voi 600 euro seconda offerta per l'Amadio allora seconda offerta per l'opera di Giuseppe Amadio 600 euro vi avverto che con la terza offerta entra in gara seconda offerta per Amadio a 600 euro avanti allora ditemi voi ditemi voi ditemi voi l'opera di Lombardo l'opera di Pozzati pubblicata l'opera strepitosa di Finzi il Vermi il Matteo Rossello da collezione il Grande Bigi quella Monica Bellucci quell'osmosi di Malipiero opera pubblicata amici dai c'è tanta carne al fuoco devo sentire entusiasmo devo sentire partecipazione partecipazione guardate i quattro gioiellini di Fabrizio Tedeschi le quattro gemme i quattro totem letteralmente preziosi di Fabrizio Tedeschi io vi dico fate presto perché le grandi opportunità come quella che vi sta capitando oggi ebbè non si ripetono non si ripetono poi mi direte beh mamma mia avevi ragione allora terza offerta per l'opera preziosa di Amadio dunque 5,6 700 euro 700 euro l'opera è vostra è arrivata anche la quarta offerta 800 franco come? 800 800 la quarta proposta l'opera è vostra amici 70 per 70 estroplessione di Giuseppe Amadio opera preziosa a 800 euro è vostra l'assegno no un attimo solo un attimo 800 900 franco la prima 900 sono arrivati 900 mi dicono adesso 900 euro 900 euro per la prima 900 euro per la seconda e poi quando per un'opera che non questa viene dalla biennale 1000 euro per Maria 1000 euro per Maria 1000 euro per Maria 1000 euro per la prima 1000 euro per la seconda 1000 euro dovrebbe fare 1100 no no 1100 1000 euro assegno molto veloci eh molto veloci 1000 euro per la prima 1000 euro per la seconda 1000 euro assegnata a 1000 euro oh amici inutile dire che i prezzi di oggi non fanno testo non fanno testo mi raccomando oh c'è l'opera qui siamo a 5000 euro eh per un'opera di Gastone Bigi di questo livello da 140 per 180 siamo a 5000 euro eh non pensate a chi l'ha comprato dieci anni fa a 80.000 euro eh meravigliosa opera di Salvatore Emblema eh gioiello eh l'incisione di Guttuso eh gioiello l'incisione di Guttuso Yves Klein eh Yves Klein per il Pizzi Cannella siamo a 3000 euro seconda offerta la terza offerta entra in gara siamo a no eh va bene 3.500 euro entra in gara Pizzi Cannella vero l'oro di Dublino entra in gara non a 8.000 a 9.000 euro a 3.500 euro e ve lo dico francamente è il mio pittore preferito è uno degli artisti più affascinanti eh della contemporaneità l'opera è vostra a 3.500 euro eh 60 per 80 inutile dirvi che non vi capiterà mai più quando andrete a leggere eh una mostra di Piero Pizzi Cannella oppure c'è la nuvola eh oggi è l'ultimo giorno della nuvola a Roma ho visto opere così di Pizzi Cannella 12.000 15.000 13.000 questi sono i prezzi eh di Pizzi Cannella eh siamo a 3.500 euro e l'opera è vostra amici eh questi sono questi sono i momenti magici eh di questa trasmissione questi sono eh i momenti magici eh di questa trasmissione 3.500 euro eh per un'opera storica da Di Piero Pizzi Cannella 3.500 per la prima eh mi chiedono tempo ma qui dovrei avere 20 telefonate eh qui dovrei avere 20 telefonate ma vi rendete conto non è 18 per 24 eh è un 60 per 80 di Piero Pizzi Cannella a 3.500 euro e se non ci sono altre proposte eh sono costritto ad assegnarlo quello che vi sta capitando oggi eh dimenticatelo per tutta la vita dimenticatelo per tutta la vita oggi eh un collezionista attento un investitore eh un mercante eh dovrebbe comprare tutto eh dovrebbe comprare tutto quello eh che eh vi sto proponendo posso giudicare a 3.500 tutti mi dicono no eh tutti mi dicono no ma non sento le altre offerte eh stanno scrivendo ma cosa scrivete eh dovete telefonare immediatamente e avere il terrore eh che l'opera eh venga assegnata prima del vostro intervento cosa no ma eh non posso eh amici dai eh non siete eh per favore per favore non posso accettare su pizzicannella le offerte di 100 euro e non posso accettare eh offerte scandalose eh un'opera di vermi così eh che cosa offrite 500 euro ne offro 5.000 io dai non prendiamoci per i fondelli eh non prendiamoci per i fondelli eh questo sapete che cosa significa che se io accettassi 500 euro per vermi o l'ho rubato o è falso non siate sciocchi eh eh capisco che dovete comprare a prezzi clamorosamente piccoli eh di vantaggio assoluto ma scusatemi eh c'è qualcuno che può negare che se vado ad una personale di pizzicannella se vado a qualsiasi mostra dove trovo un'opera di pizzicannella così meno di 8.000 9.000 euro ma neanche ma neanche ma neanche parlano ma neanche te fanno parlare non te la fanno nemmeno vedere quando sei a 3.500 euro si chiama lesio ultra di medium quindi siamo al di là della legge l'assegno a 3.500 abbiamo la seconda offerta per il malipiero 700 euro franco ecco abbiamo risolto i problemi 700 euro poi vi dico andate nelle più grandi gallerie italiane e chiedete un'opera di vera pubblicata storica di malipiero vi chiedono 5.000 euro siamo a 700 euro ed è anche splendida me la fai rivedere? no 3.500 non l'assegno non l'assegno aspetto l'altra offerta poi vedremo tanto ho fino a luna di tempo per assegnare l'opera è vostra ormai il pizzicannella è venduto però aspetto le altre offerte prima di batterlo perché è veramente scandaloso seconda offerta per l'opera pubblicata di malipiero 700 euro 700 euro allora facciamo rivedere tutte le opere facciamo rivedere tutte le opere perché avete delle opportunità letteralmente epocali allora io ripartirei dal numero zero dallo schifano storico e poi c'è lo zero miss eccolo qua un metro per un metro e quaranta opera pubblicata tela computerizzata ritoccata a mano questo satellitare di Mario Schifano aspetto le vostre proposte un metro per un metro e quaranta quindi con quello che sta accadendo su Mario Schifano sapete perfettamente cosa significa oggi offrirvi un'opera del genere aspetto le vostre proposte economiche aspetto le vostre proposte poi c'è l'opera più importante che vi abbia presentato negli ultimi dieci anni di Renato Mambo l'uomo nascosto 1962 50 per 70 opera da museo opera da Christis da Sotheby's che ho l'onore di farvi vedere non apprezzo aspetto le vostre proposte abbiamo la prima offerta per il vermi 2500 euro il gioiello di vermi meraviglioso al numero 20 2500 euro quella piattaforma 80 per 60 del 73 prima offerta per l'opera di Arturo Verme allora poi seconda offerta per il Malipiero con la terza offerta entra in gara 700 euro ed è meraviglioso pubblicato poi quattro gemme piccoline una più bella dell'altra di Fabrizio Tedeschi la 2 la 3 la 4 e la 5 il sacro Govi la sacralità egizia e i due totem urbani io vi consiglio di prenderle tutte e quattro in lotto unico se volete fare un'offerta per tutte e quattro oppure singolarmente poi al numero 7 ancora senza offerte è un'incisione storica di Giuseppe Santomaso dell'89 85 per 70 al numero 8 c'è il quadro più importante della storia di Gastone Bigi un metro e quaranta per un metro e ottanta la fabbrica degli angeli ribelli 5 mila euro prima proposta economica prima proposta economica poi al numero nove c'è un'opera preziosa del 1970 di Salvatore Emblema di un metro e trenta per un metro che aspetta le vostre offerte così come l'opera più bella l'opera più affascinante di Fabrizio Campanella del 93 100 per 70 al numero 11 un'incisione di Guttuso l'autoritratto 50 per 35 aspetta le vostre offerte poi un gioiellino su close up pubblicato Maddalena Mauri 27 per 20 aspetta le vostre offerte ho assegnato a 400 euro il numero 13 di Lupatelli pubblicato poi ancora al numero 15 un'opera di Giorgio Lupatelli l'Elevage du Poussière pubblicata 15 per 15 e l'ultimo olio di Lupatelli anche questo pubblicato al numero 16 poi numero 17 incisione storica di Yves Klein del 2000 78 per 55 e qui veramente è un'opera rarissima aspetto le vostre offerte Dottor Boni prima offerta per la numero 11 di 100 euro la numero 11 di Renato Guttuso l'incisione 100 euro prima offerta falla rivedere mi chiedono 1000 1200 incisione storica di Guttuso al numero 11 100 euro prima offerta arrivata anche l'offerta 2 a 200 200 euro seconda offerta con la terza offerta entra in gara poi il Klein il Pizzicannella che è vostro il Pizzicannella ha già raggiunto la terza offerta è vostro a 3.500 euro 60 per 80 dall'oro di Dublino e aspetto le vostre offerte poi al numero 19 Uomo Mare Nuvola 70% di Mario Rossello introvabile opera preziosa del 73 di Arturo Vermi olio su tela 80 per 60 2.500 euro prima offerta 2.500 euro prima offerta e poi l'opera che adoro l'opera che amo alla follia 3.000 per Vermi dottor Boni il Vermi 3.000 3.000 euro seconda offerta per l'opera di Arturo Vermi e poi dottor Boni 300 per l'opera numero 11 che entra in gara allora entra in gara a 300 euro l'incisione di Guttuso quindi è vostra come è vostro il pizzicannella ma aspetto le offerte successive 2.500 per il 3.000 per il Vermi seconda offerta con la terza offerta entra in gara meravigliosa l'opera di Ennio Finzi un metro e cinquanta per due giustamente considerato il capolavoro assoluto di Ennio Finzi il grande quadro di Pozzati io sono di pelle pubblicato un metro per un metro e venti un'offerta per il momento 2.000 euro 2.000 euro un'offerta per il momento che aspettate a comprare Sergio Lombardo se non comprate la stocastica di Sergio Lombardo vi invito ad andare oggi da Sergio Lombardo un'opera del genere che vi chiede 30.000 euro e Sergio Lombardo costerà quanto Boetti oggi ve lo ripeto non comprare Sergio Lombardo e Renato Mambur significa buttare via capitali buttare via capitali poi opera storica la mitica lettera non voluta opera iper pubblicata di Gastone Bigi Franco Marrocco L'eco del bosco anche questa un'opera pubblicata su Close Up e poi il mitico paesaggio pubblicatissimo piccolino ma prezioso di Luca Poiu Vaccari pubblicato su Close Up a pagina 243 la mitica Camera Magica l'opera più importante di Fabrizio Campanella Poi il totem rosso di Fabrizio Tedeschi e il grande emblema pubblicato sulle 50 opere incancellabili di Salvatore Emblema Allora amici quello che vi sta capitando oggi sul piano dei prezzi non vi capiterà mai più non vi capiterà mai più la qualità e l'importanza delle opere che avete oggi a disposizione è paurosa stiamo andando lentamente ma approfittatene Allora Renato Guttuso a 300 euro è vostra l'incisione al numero 11 facciamola rivedere 300 euro per la prima 300 euro per la seconda se nessuno mi offre di più a 300 euro io sono costretto ad aggiudicare quella incisione di Renato Guttuso 300 euro per la prima 300 euro per la seconda squillano i telefoni 300 euro 300 euro 350 per Guttuso 350 per il Guttuso 350 per la prima 350 per la seconda 350 euro assegnato via mi dicono che si stanno arrabbiando per l'opera di Pizzi Cannella perché non la giudico ritorniamo sull'opera di Pizzi Cannella che è a 3.500 ritorniamo sull'opera di Pizzi Cannella al numero 18 che è vostra scandalosamente a 3.500 euro allora 3.500 per l'opera mi dice Antonio che un amico guarda io accetto tutto oggi 3.600 3.600 per l'opera di Pizzi Cannella 3.600 euro per la prima perdila l'oro di Dublino 1995 del 60 per 80 di Piero Pizzi Cannella 3.600 euro non ti capiterà mai più di poter comprare un'opera del genere a un prezzo del genere 3.600 per la prima 3.600 per la seconda chiama subito chiama subito perché la perdi 3.600 per la prima 3.600 per la seconda 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 do il tempo per replicare ma perdere un'opera del genere a un prezzo del genere o poi è un prezzo netto perché non ci sono diritti quindi è un prezzo netto 3.700 Piero Pizzi Cannella 3.700 e 1 3.700 e 2 arrivano i 3.800 Franco 3.800 3.800 3.800 per la seconda 3.900 3.900 per la prima 3.900 per la seconda 3.900 3.900 3.900 assegnata l'opera di Pizzi Cannella a 3.900 3.900 3.900 3.900 amici io ve lo dico quello che vi sta capitando dimenticatelo per sempre poi al numero 29 vi devo far vedere la pubblicazione c'è un'opera di Salvatore Emblema magica magica un metro e cinquanta per un metro e trenta pubblicata sul libro dei 50 quadri storici di Salvatore Emblema come? il Guttuso l'abbiamo assegnato il Pizzi Cannella l'abbiamo assegnato guardate quello che sta succedendo oggi è assurdo è assurdo Salvatore Emblema così pubblicato tra le cinquanta opere indimenticabili di Salvatore Emblema un metro e cinquanta per un metro e trenta c'è una prima offerta che non la chiamo nemmeno offerta perché se andate alla fondazione Emblema oggi un'opera del genere vi chiedono ventimila euro venticinque mila euro pubblicata tra le opere fondamentali di Emblema un metro e cinquanta per un metro e trenta prima offerta mille euro io accetto tutto oggi io oggi accetto tutto ma vi dovete ribellare perché quello che sta accadendo oggi è incredibile detessitura preziosa un metro e cinquanta per un metro e trenta di Salvatore Emblema non diecimila dodicimila quindicimila mille euro prima offerta mille euro prima offerta inutile dire che tocca a voi chi mi fa la seconda offerta chi mi fa la terza offerta e l'opera entrerà in gara tocca a voi tocca a voi giornata storica giornata che non dimenticherete mai mille euro nessuno di più mille e cinque seconda offerta mille e cinque seconda offerta per l'emblema con la terza offerta l'opera diventa vostra mille e cinque è un metro e cinquanta per un metro e trenta non è diciotto per ventiquattro è un metro e cinquanta per un metro e trenta di emblema mille e cinquecento euro mille e cinquecento euro mille e cinque per la prima mille e cinque oh se non arriva la terza offerta lo ritiro eh se non arriva la terza offerta immediatamente lo ritiro duemila eh lo credo duemila è vostro l'unica cosa che vi posso dire adesso difendetelo eh l'opera è vostra duemila euro due e cinque due e cinque due e cinque duemila e cinque ma eh per un'opera del genere dovremmo parlare di tredicimila quattordicimila quindicimila arrivano anche tremila franco eh tremila tremila per la prima tremila per la seconda vuole uspire per il cinque tremila per la prima tremila per la seconda amici io l'assegno eh eh poi dimenticate eh un prezzo del genere ho tra l'altro eh un'opera pubblicata eh tra le opere scelte di emblema quindi eh una delle opere fondamentali una delle opere straordinarie di Salvatore emblema siamo a tremila euro tremila e cinque tremila e cinque tremila e cinque per Salvatore emblema tremila e cinque per la prima oh io do il tempo per la replica eh ma vi rendete conto eh di quello che sta accadendo oggi io di un'opera del genere vi devo chiedere dodici mila euro non tremila e cinque quattromila cinquemila eh vi devo chiedere dodici mila euro e siamo a tremila cinquecento euro eh assegno a tremila e cinque o poi eh naturalmente quello che sta accadendo oggi non fa testo quando vi farò vedere un'altra opera di emblema a dodici mila tredici mila euro da ve la consiglierò però non dovete prendere come riferimento da quello che sta accadendo oggi a tremila e cinquecento euro per la prima tremila e cinquecento euro per la seconda io regalo tutto oggi eh io regalo tutto eh la cosa assurda è che voi non ve ne state rendendo conto è che voi non ve ne state rendendo conto tremila e cinquecento euro ma l'ho detto sessanta volte che i prezzi di oggi non fanno testo c'è un amico che mi offre tremila e otto c'è un amico che mi offre tremila e otto ma non andiamo di cento in cento fra tremila e otto e quattromila è la stessa cosa dai no tremila e otto tremila e otto tremila e otto mamma mia mamma mia eh tremila e ottocento euro per la prima amici eh quello che sta accadendo oggi è assurdo eh lo dico ai rivenditori eh lo dico ai mercanti eh quello che sta accadendo oggi eh certo quattromila adesso quattromila adesso quattromila adesso quattro e cinque quattro e cinque quattro e cinque mi dice Antonio quattro e cinque quattro e cinque Vediamo, 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 vediamo. 4 e 5, Maria, attenzione, non capiterà mai più. 4 e 5 per la prima, 4 e 5 per la seconda. Amici, io mi arrendo, assegno, ma è follia, io mi arrendo, assegno, vi faccio i più vivi complimenti, ma è follia, ma è follia. Allora, complimenti, complimenti, complimenti. Allora, dove siamo in terza offerta? Dove siamo in terza offerta? Io vi ricordo, io vi ricordo... Abbiamo 800 euro per Malipiero, Franco è entrato in gara, numero uno. Il Malipiero ha 800, giusto, 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 giusto. La Monica Bellucci con la tour Eiffel alle spalle, pubblicata, questo è il catalogo generale dell'opera di Malipiero. Questo è il catalogo generale dell'opera di Malipiero. Primo volume. Eccola qua. Opera pubblicata di Malipiero. Siamo a 800 euro e l'opera è vostra. Ma voi vi rendete conto di quello che sta accadendo oggi? Vi rendete conto di che cosa significa oggi essere di fronte al teleschermo? Eh? 800 euro un'opera pubblicata di questa bellezza di Malipiero. È vostra. 800 euro per la prima? 800 euro per la seconda? No, 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 non 8 e 50. 900, Franco. 900 in 100. 900. 900 euro. 900 euro per la prima? 900 euro per la seconda? Vuole fare mille? 900 euro. Amici, io l'assegno, ma è vera, è un'opera autentica di Malipiero, pubblicata a 900 euro. La pubblicazione costa di più? Dico, se chiedete l'autentica, vi costa più l'autentica dell'opera. Il libro? Se comprate il libro, buonanotte. Dico, ma vi rendete conto di quello che sta accadendo oggi? Vi rendete conto di quello che potete mettere in collezione oggi a che prezzi? 900 euro, un gioiello di Malipiero di questa bellezza. 900 euro per la prima, 900 euro per la seconda. Ma i mercanti dovrebbero intervenire al volo. Avete letteralmente la fortuna di poter acquisire opere di questo livello a zero. 900 euro per la prima, 900 euro per la seconda, 900 euro. Nessuno mi offre di più, io la assegno a 900 euro. complimenti. Allora, cosa abbiamo in gara? Cosa abbiamo in gara? Dunque, vediamo un attimo. Io ho al numero 8 il grande quadro di Gastone Bigi, la grande opera storica di Gastone Bigi, ho una prima offerta a 5.000 euro. ho una prima offerta a 5.000 euro. Non ci sono altre offerte? 140 per 180, opera grandiosa di Gastone Bigi. Mi dice Antonio che c'era una seconda offerta a 6.000 euro che lui non ha accettato. Ma io accetto tutto. Oggi è la vostra giornata. Per il Bigi, accetto 6.000 euro. Accetto 6.000 euro per il Bigi, 140 per 180, con la terza offerta entra in gara. Con la terza offerta entra in gara. E ora vi faccio impazzire. E ora letteralmente vi faccio impazzire. Oh, vi ricordo che manca la terza offerta per l'opera di Vermi. Vi ricordo che manca la seconda offerta per la straordinaria, splendida opera di Pozzati. E poi, Antonio, facciamo vedere quello Schifano clamoroso. Facciamo vedere quell'opera di Schifano che oggi tutti vogliono. Lo sapete quello che sta succedendo? Ma adesso vediamo. Sapete che su Schifano sta succedendo l'ira di Dio. 7.000 per Bigi. 7.000 entra in gara il capolavoro assoluto di Gastone Bigi. 7.000 entra in gara. Quando vi dico, amici, io vi dico le verità. Bigi è un artista enorme. Bigi è un artista clamoroso. Bigi è un artista che è già nella storia. I testi su Bigi sono di Argan e di Palma Bucarelli. Bigi è l'alternativa storica al pop internazionale. E' l'alternativa storica a Schifano. Quest'opera, ve lo giuro, è la verità. Dieci anni fa l'ho venduta a 80.000 euro. E Bigi ritornerà a queste cipre. Bigi lo vogliono gli americani e lo vogliono i cinesi. Lo vogliono i più grandi mercanti americani e i più grandi operatori finanziari cinesi. Capolavoro assoluto. Io non uso mai questo termine. Il quadro di sintesi di tutta la storia di Bigi 7.000 euro. Non gli 80.000 che vale. 7.000 euro. 140 per 180. Opera clamorosa. Oh, inutile dire che l'opera è vostra. È inutile dire che tocca a voi. 7.000 euro per la prima. 7.000 euro per la seconda. Ai, ai, ai. Ecco, squillano tutti i telefoni. Squillano tutti i telefoni. Abbiamo 8.000 e 8.500, Franco. Accettiamo 8.500, eh? Accetta tutto. Ho detto oggi che accettiamo tutto. 8.500, allora. 8.000 e 8.500. 8.500, 8.500 per la prima, 8.500 per la seconda, siamo alla follia, 9.000, 9.000 per la prima. 9.500, 9.000 per la prima. Franco, un attimo di solo di tempo. Guardate che perdere una gemma del genere, i bigi piccolini 18x24 li avete pagati 8.000 euro. perdere un'opera di questo livello a 9.000 euro, ma perderla a 20.000, 30.000, significa buttare via un capitale. 9.000 euro per la prima, 9.000 euro per la prima, 9.000 euro per la seconda, abbiamo la prima offerta per il Lombardo a 5.000 euro, Franco. prima offerta per la prima offerta per l'opera di Lombardo a 5.000 euro, ma io sono non preoccupato. Amici, dare quest'opera di Bigi a 9.000 euro significa ucciderci. datemi retta, lo dico a chi ha fatto delle offerte, a chi ha offerto 6.000, 7.000, 8.000, ma ve lo giuro, perdere quest'opera a questo prezzo, non solo perdete una delle opere più importanti di un genio, ma un investimento culturale ed economico pauroso. 9.000, 9.000 per la prima, 9.500. 9.500 euro, 9.500 per la prima, mamma mia, mamma mia, mamma mia, chiudo a 9.500? 10.000? No? Mi chiedono tempo? 10.000? Amici, ma vi accorgete della follia, vi accorgete della follia, vi rendete conto che siamo non a zero, sotto zero? vi rendete conto di quello che sta accadendo in questa trasmissione vendere quest'opera a 40-50 mila euro significa regalarlo figuratevi a 9.500 euro figuratevi a 9.500 euro è una follia è una follia è una follia lo dico agli amici più cari amici quello che sta accadendo oggi ad arte e investimenti è incommensurabile è incommensurabile per la qualità delle opere per il livello delle opere e per i prezzi assurdi dei quali state approfittando io devo assegnare ma ve lo ricorderete perché questo è un quadro che vi perseguiterà ve lo ricorderete perché questo è un quadro indimenticabile 9.500 per la prima abbiamo la seconda offerta per il Lombardo 6.000 euro adesso tutti sul Lombardo 9.500 per la prima 9.500 per la seconda 9.500 assegno 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 lo devo assegnare come no dal centralino mi dicono no ma lo devo assegnare perché non posso so che è un'assurdità so lo capisco perfettamente che è un'assurdità 9.500 assegnato via complimenti 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 del Lombardo non parlo nemmeno opera storica 150 per un metro qui non ci sono chiacchiere Lombardo è vivo Lombardo lo potete andare a trovare in studio vi do l'indirizzo vi do il numero di telefono Lombardo lo andate a trovare in studio un'opera così della stocastica vi chiede lui 30.000 euro Lombardo è fondamentale nella storia dell'arte degli anni 60 Lombardo Lombardo costerà quanto e più di boitti mettetevelo bene in testa un'opera del genere un metro e cinquanta per un metro storica non ha prezzo oggi da lui lo paghi 30.000 euro comprare Lombardo oggi è come no puoi accettare 7.000 puoi accettare 7.000 e a 7.000 entriamo in gara 7.000 Il Lombardo è vostro a 7.000 euro non a 30.000 quanti giustamente ne esige lui siamo a 7.000 euro tocca a voi un metro e cinquanta per un metro non è un'opera piccolina è un'opera storica è un'opera superiore 7.000 per la prima ma aspetta un attimo no no io aspetto tutta la trasmissione io aspetto tutta la trasmissione Sergio Lombardo amici quello che sta accadendo oggi è inimmaginabile quello che state comprando oggi i prezzi che riuscite a strappare oggi ma ve lo dico francamente non me lo sarei mai aspettato un'opera del genere un mercante te la paga 18-20.000 perché la rivende a 35 siamo a 7.000 euro siamo a 7.000 euro e laggiù dico no io voglio farvi vedere una cosa voglio farvi vedere una cosa io voglio farvi vedere una cosa 23 eccolo qua Sergio Lombardo foresta numero 5 2008 dimensioni 100x150 collocazione a 3 riferimento ai 11-371 prezzo minimo prezzo minimo prezzo minimo eccolo qui siamo a 7.000 euro 7.000 euro per la prima 7.000 euro per la seconda avete idea di quello che sta accadendo oggi? noi accettiamo che abbiamo fatto minimo 7.000 euro per la prima 7.000 euro per la seconda 7.000 euro assegnata l'opera di Sergio Lombardo amici oggi sta accadendo quello che è assurdo quello che è impensabile no 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 suo emblema non ci torno più suo emblema non ci torno più avete idea di quello che sta accadendo? parlavo con Fabrizio Campanella di quest'opera unica al mondo questa è la rivoluzione fotografica questa è è pubblicata sul libro di Marziani misura quanto misura scusatemi il Campanella? un metro un metro un metro e dieci per un metro e cinquanta ho una valutazione di 14.000 euro pezzo unico al mondo pezzo unico al mondo ho una prima offerta di 1.000 euro ho una prima offerta di 1.000 euro ditemi voi cosa devo fare ditemi voi cosa devo fare 1.000 euro per l'opera iper pubblicata storica grandiosa di Fabrizio Campanella 1.000 euro per la prima prima offerta ma lo ritiro ma lo compro io scusami a 1.500 euro a 1.200 a 1.300 non ti compri un pezzo storico museale come quest'opera pazzesca di Fabrizio Campanella state approfittando di una giornata indimenticabile state letteralmente approfittando di una giornata indimenticabile vi dico fate voi fate voi l'opera di Campanella a 1.000 euro come il mitico quadro io sono di pelle un metro per un metro e venti di concetto Pozzati che è al numero 22 è a 2.000 euro è a 2.000 euro quell'opera pazzesca quell'opera incredibile quell'opera fantastica di concetto Pozzati poi come ricorderete questa giornata ve lo dico l'opera di Pozzati è pubblicata e siamo a 2.000 euro ma adesso vi faccio impazzire ma adesso vi faccio impazzire numero zero vieni qui Federico arriva la seconda offerta per Campanella 1.300 mi volete male mi volete togliere il Campanella seconda offerta 1.300 con la terza offerta entra in gara l'opera di Campanella con la terza offerta entrerà in gara l'opera di Campanella guardate qui Mario Schifano satellitare emulsione emulsione 100% 40 pubblicata opera storica non è di quelle piccoline è un metro per un metro e 40 dove c'è un intervento manuale pazzesco dove riconosci proprio la grafia di Mario Schifano su Schifano sta succedendo l'incredibile Schifano le opere internazionali come quella che state vedendo oggi a meno di 30.000 35.000 non le compri voglio sentire quelle che sono le vostre proposte su un'opera del genere di Mario Schifano anzi 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 eh ditemi voi io so che amici io vi lascio liberi di parlare fate voi le vostre proposte economiche per un'opera di Mario Schifano così vi dico solo che in vendita alla nuvola a Roma ad arte fiera a Roma oggi c'è il pandan di quest'opera esattamente della stessa dimensione esattamente lo stesso soggetto cambiano i colori ma è il pandan di quest'opera 35.000 euro e non sono chiacchiere è verità vai alla nuvola a Roma entri e lo trovi chiaro 35.000 euro voglio vedere quanto avete il coraggio voi di offrire su quest'opera storica pubblicata di Mario Schifano sentiamo le vostre proposte sentiamo le vostre proposte 100% 40% parlate 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 quanto? c'è un signore che mi offre 5.000 euro però c'è già un'offerta di 6.000 però c'è già un'offerta di 6.000 ma è come dire zero chi offre 5.000 euro 6.000 euro per un'opera del genere di Mario Schifano è come dire offro nulla offro zero qualsiasi mercante offre di più 6.000 euro guardate io assegno eh oggi assegno tutto quello che riuscite ad acquisire oggi è incredibile 6.000 euro per la prima 7.000 franco 7.000 euro ma fate 10 12 15 18 20 7.000 euro lo assegno arrivano 8.000 euro 100% 40 8.000 euro lo assegno 8.000 euro per la prima o poi non meravigliatevi quando domani dopo domani in trasmissione vi offrirò un'opera similare un metro per un metro e quaranta e vi chiederò 28 30 25 32 perché questi sono i prezzi attuali per un'opera di Mario Schifano così avete una fortuna spacciata siete di fronte al teleschermo in un momento nel quale vi stanno regalando delle opere da sogno e i prezzi che sentite oggi dimenticateli per tutta la vita dimenticateli per tutta la vita dimenticateli per tutta la vita un'opera del genere di Mario Schifano a 8000 euro poi non è 20 per 30 è un metro per un metro e quaranta 9000 9000 euro è un metro per un metro e quaranta non è 20 per 30 9000 euro 9000 euro per la prima 9000 euro per la seconda va benissimo va benissimo va benissimo ti fai rivedere il postato sì ma siamo in un momento tragico a segnare un'opera di un metro per un metro e quaranta vera storica pubblicata di Mario Schifano a 9000 euro è una follia è una follia 9000 euro per la prima no vedete io qui mi sento male sapete perché perché so perfettamente che domani nel presentarvi un'opera similare della stessa misura della stessa tecnica vi dovrò chiedere 25 28 e voi mi direte ma ieri ne hai assegnata una storica che poi tra l'altro ha il soggetto legato ai temi della comunicazione questo satellitare quindi di importanza storica assoluta a 9000 euro a 9000 euro chi mi offre più di 9000 euro amici ma vi rendete conto della fortuna che avete non ve ne rendete conto assolutamente della fortuna che avete io vi sfido vi sfido girate tutta Italia girate tutto il mondo e trovate un'opera del genere non a 9 ma a 18 non a 9000 euro ma a 18000 euro no chi mi offre più di 9000 chi mi offre più di 9000 chi mi offre più di 9000 c'è Maria che freme ma chi è che ha offerto 9000 euro signor Marco ai 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 chiede la giudicazione ci credo eh lo credo che chiede la giudicazione ci credo che chiede la giudicazione ai 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 è proprio vero che questo mestiere è il mestiere più assurdo del mondo è anche quello più bello ma è il più assurdo del mondo perché oggi avete la fortuna sfacciata di poter comprare l'incredibile ai prezzi più favorevoli 9000 euro per la prima 9000 euro per la seconda no no vabbè ormai ormai al signor Marco glielo stiamo facendo penaghi è un grande se vuoi parlare veramente di alfa Maria per la gioia del signor Marco lo assegniamo a 9000 euro lo assegniamo a 9000 euro ve lo ricorderete per tutta la vita ve lo ricorderete per tutta la vita 9000 euro mamma mia mamma mia quello che sta succedendo ma sapete amici oggi veramente avete delle opportunità c'è l'altra opera storica di Emblema c'è l'incisione di Klein c'è l'opera storica di Fabrizio Campanella il Pizzi Cannella è assegnato il Vermi siamo in gara per dunque siamo in gara per due opere siamo in gara per l'opera preziosa di Arturo Vermi del 73 siamo in gara per l'opera preziosa di Arturo Vermi del 73 e credo che siamo in gara hanno seconda offerta per il grande quadro pubblicato di Concetto Pozzati 100 per 120 io sono di pelle Maria mi dai i dati dunque per il Pozzati siamo in seconda offerta il Pozzati siamo in seconda offerta a 3000 euro 3000 euro per il Pozzati in seconda offerta e siamo anche a 3000 per il Vermi al numero 20 3000 anche per l'opera di Vermi seconda seconda offerta quindi due seconde offerte con la terza offerta entriamo in gara sia per l'opera storica di Vermi a 3000 euro sia per l'opera storica iper pubblicata magica di Concetto Pozzati a 3000 euro allora seconda offerta seconda offerta per il Vermi e seconda offerta per il Pozzati quindi con la terza offerta entriamo in gara per tutte e due le opere per tutte e due le opere oh amici oh siamo in seconda offerta mi ricorda Antonio anche per la grande fantastica opera che piace a me da morire iper pubblicata di Fabrizio Campanella a 1300 euro a 1300 euro in seconda offerta in seconda offerta bene per il grande quadro di Egno Finzi che mi dite per la grande per il grande quadro di Egno Finzi mi avete offerto 1000 euro un metro e cinquanta per due ma certo che siete generosi eh ma vedete ma è irrispettoso è irrispettoso per un artista storico che è uno degli artisti del rinnovamento culturale veneziano più clamoroso del quale a 1000 euro comprate le opere false e lo sapete tutti eh il capolavoro assoluto di quest'artista eh un metro e cinquanta per due offrire 1000 euro eh significa offendere eh offendere proprio eh uno degli artisti eh più affascinanti eh che eh eh possiate pensare di acquisire no il lombardo è stato assegnato a due soldi eh il lombardo è stato assegnato a due soldi le forme di pagamento restano sempre le stesse però eh l'unica cosa che cambia è che eh quello che offrite eh non è visione è acquisizione eh l'unica cosa che cambia eh è che eh le opere non sono in visione come accade normalmente nelle trasmissioni televisive ma consideriamo la vostra proposta eh definitiva bene eh non abbiamo opere in gara eh quindi eh posso farvi rivedere le opere disponibili eh partiamo dal numero due tre quattro e cinque eh i quattro gioiellini di Fabrizio Tedeschi eh rivediamoli sono quattro gioielli di Fabrizio Tedeschi piccolini ma di grande qualità eh di totem eh mitici di Fabrizio Tedeschi eh ditemi voi fatemi un'offerta eh fatemi un'offerta poi al numero sette c'è una storica incisione di San Tommaso eh c'è un'incisione storica 85 per 70 da Di Giuseppe San Tommaso è una punta secca vera di San Tommaso costa duemila euro mi potete offrire quello che volete eh chi mi offre cento euro eh andiamo con tre offerte di cento euro ciascuna entra in gara poi al numero nove eh c'è una grande fantastica opera di emblema eh del 1970 al numero nove c'è una fantastica opera di emblema del 1970 un metro e trenta per un metro eh qui ho una richiesta di 18 e 5 chiedete voi poi al numero 10 c'è eh olio su tela di Fabrizio Campanella del 93 eh un metro per 70 quindi al numero 12 ho un'opera pubblicata su Close Up di Marziani eh di Maddalena Mauri piccolina eh ma di grande qualità e poi al numero 15 al numero 16 eh due opere sempre pubblicate su Close Up eh di Giorgio Lupatelli eh numero 17 eh Anto Anto Gropometri eh 78 per 55 incisione storica eh di Yves Klein e al numero 19 eh un'opera fantastica eh del 1970 eh di Mario Rossello eh quest'uomo mare nuvola eh per il al numero 20 eh l'opera meravigliosa di Vermi la piattaforma eh del 73 80 per 60 siamo a 3 mila euro in seconda offerta eh mi manca la terza offerta eh per entrare in gara e poi alla numero 21 eh un'opera storica di Egno Finzi eh meravigliosa eh un metro e cinquanta per due eh quello che viene considerato il capolavoro assoluto di Egno Finzi eh per il quale non ho ancora offerte numero 22 eh io sono di pelle un metro per un metro e venti di concetto Pozzati pubblicato eh seconda offerta 3.000 euro con la terza offerta entriamo in gara e al numero 24 un'opera storica del 1960 di Gastone Bigi eh 60 per 90 la mitica lettera non voluta poi al numero 25 l'eco del bosco 30 per 30 eh un gioiello di Franco Marrocco e al numero 26 eh il piccolo paesaggio opera pubblicata su close up eh di Luca Piovaccari poi al 27 eh la camera magica di Fabrizio Campanella eh seconda offerta 1300 euro opera di un metro e dieci per un metro e cinquanta iper pubblicata e al numero 28 eh il più famoso dei totem di Fabrizio Tedeschi eh un metro per un metro il mitico totem rosso eh che aspetta le vostre eh proposte poi andiamo a vedere la numero 26 eh quel gioiellino eh di Luca Piovaccari iper pubblicato 10 per 9 eh uno dei fantastici questo è un gioiello di Piovaccari pubblicato su Close Up chiedono 3000 euro eh c'è un'offerta ridicola non la dico 200 euro 200 euro però ve lo dico è la prima offerta allora eh poi ci sarebbe anche eh il più clamoroso dei quadri di eh Mambo è il più incredibile dei quadri di Mambo eh quella eh l'uomo invisibile eh del 62 eh che viene da Christis e viene considerato eh il quadro più importante di Mambo che si è apparso sul mercato negli ultimi dieci anni paragonabile solamente eh al mitico diario degli amici eh per il quale si offrono milioni eh milioni opera del 62 di Renato Mambo oh inutile dire che su quest'opera eh qualche offerta l'avete fatta però dovrei chiedere 70.000 80.000 euro quando per un'opera del genere mi offrite 10.000 euro non la prendo nemmeno in considerazione eh non la prendo nemmeno in considerazione 1962 opera di Mambo fondamentale tutte le teorie di Mambo si sviluppano e prendono corpo da quell'opera quindi ecco magari 10.000 euro la posso considerare prima offerta però le le altre offerte devono essere non di mille in mille eh molto più eh ecco 10 in 10 10 in 10 eh per dire minimo eh per dire minimo tre offerte ed entriamo in gara eh opera clamorosa di Renato Mambo eh amici tocca a voi eh non ho opere in gara per il momento sì mi dice Maria che per il Vermi abbiamo la terza offerta la seconda era 3.000 3.000 3.000 3.000 mamma mia 3.300 euro eh per l'opera di Arturo Vermi del 73 amici eh qui con Ugo Lapietra eccetera tutto il gruppo eh eh tutto eh il gruppo del Cenacolo eh sta diventando un punto di riferimento eh non solo storico eh ma di mercato eh olio 1973 80 per 60 clamoroso di Vermi è vostro 3.300 euro eh 3.300 euro per la prima 3.300 euro per la seconda oh amici quello che sta accadendo oggi è dimenticatelo per sempre eh perché prezzi del genere eh dimenticateli per tutta la vita eh dimenticateli per tutta la vita 3.300 euro eh l'opera di Vermi è vostra allora innanzitutto deve confermare la prima offerta quindi deve fare la prima offerta 3.300 euro per la prima eh 3.300 euro per la seconda amici assegno assegno non lo comprate mai più eh un quadro storico di Arturo Vermi di questa qualità eh di questo livello eh di questa bellezza eh di questa importanza a 3.300 euro eh vi giuro non lo comprate mai più ed è eh uno di quegli artisti eh le cui quotazioni stanno andando alle stelle 3.300 euro per la prima 3.300 euro per la seconda 3.300 euro per un'opera preziosa di Arturo Vermi la assegno eh vedete eh io pensavo che eh una trasmissione del genere eh avrebbe vi avrebbe entusiasmato eh vi avrebbe entusiasmato eh perché eh opere di questa qualità eh opere di questo livello a prezzi del genere non le avete mai viste e mai più le vedrete questa 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 la trasmissione che rimpiangerete per la vita eh per i contenuti eh che avete lasciato eh andar via eh a Cipre eh letteralmente impensabili allora per l'opera di Arturo Vermi 3.300 euro per la prima eh 3.300 euro per la seconda io la assegno eh eh complimenti 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 eh ci sono altre opere eh che entrano in gara? ci sono altre opere che entrano in gara? per il momento non lo so il Pozzati è in seconda offerta a 3.000 euro il Pozzati è in seconda offerta a 3.000 euro 3.000 euro per la prima ma ah non è non è in gara scusatevi eh non è in gara è in seconda offerta non è in gara è in seconda offerta poi ditemi voi allora sai che cosa faccio? andiamo su quel grande splendido dipinto eh di Fabrizio Tedeschi eh il numero 28 eh perché vi porto su Fabrizio Tedeschi eh vi porto su Fabrizio Tedeschi perché i suoi totem sono diventati simboli internazionali eh dopo la grande mostra eh a Tokyo eh dopo la grande mostra a Pechino eh adesso c'è una mostra dei totem di Fabrizio Tedeschi alla mitica fortezza di Arezzo e Fabrizio Tedeschi sta diventando il eh punto di riferimento della critica eh più avanzata a livello internazionale qui eh ho un cento per cento ad olio su tela eh che rappresenta eh uno dei momenti più alti della produzione di questo artista io vi dico eh oggi di un'opera del genere io vi devo chiedere quattromila e cinquecento euro eh quattromila e cinquecento euro ma chiedo ma chiedo agli amici che non hanno comprato i boetti eh quelli che oggi pagate ottantamila euro e che vi facevo pagare trecentomila lire eh e ve ne ho venduti duemila e quattrocento chiedo agli amici che hanno fatto l'errore eh in passato eh di non acquisire le opere di boetti quando costavano nulla vi chiedo di comprare le opere di Fabrizio Tedeschi questa è una delle opere più importanti fate le vostre proposte economiche fate le vostre proposte economiche con tre offerte diverse entriamo in gara eh per questo gioiello di Fabrizio Tedeschi voglio sentire le vostre proposte squilla il telefono sentiamo la vostra proposta sentiamo la vostra proposta Maria dall'espressione di Maria vedo che la proposta è cinquecento euro cinquecento euro prima proposta per quel gioiello storico di Fabrizio Tedeschi cinquecento euro guardate con tre concorrenti entro in gara cinquecento euro per la prima tre concorrenti entro in gara no no è un olio su tela è un olio su tela prezioso di Fabrizio Tedeschi mille 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 no seiccento euro mamma mia seiccento euro secondo concorrente seiccento euro per la prima non siamo ancora in gara non siamo ancora in gara mi manca il terzo concorrente settecento euro settecento euro è vostro settecento euro è vostro settecento euro per la prima sono arrivati settecento almeno ottocento almeno di cento in cento almeno di cento in cento ottocento franco ottocento euro olio su tela un metro per un metro tra l'altro splendido di Fabrizio Tedeschi ricordatevi quello che vi ho detto ricordatevi quello che vi ho detto oggi novecento novecento euro oggi avete delle opportunità che non dimenticherete mai che non dimenticherete mai novecento euro arrivati mille euro franco mille euro un'opera un metro per un metro di Fabrizio Tedeschi mille euro per la prima mille euro per la seconda mille euro siamo a mille euro almeno di cento mille cento mille euro per un'opera di Fabrizio Tedeschi mille cento mille cento mille cento euro poi mi direte poi mi direte poi mi direte mille cento mille due due telefonate mille due due telefonate mille due due telefonate mille mille tre per Antonio mille tre per Antonio opera preziosa opera di grande qualità di Fabrizio Tedeschi mille e tre cento euro per la prima mille e tre cento euro per la seconda lo assegno lo assegno mille e tre cento euro dai iper regalato iper regalato mille tre cento euro Fabrizio no no troppo tardi troppo tardi no ho già detto assegnato Maria Maria ho già detto assegnato troppo tardi mi dispiace mi dispiace ma guarda sai che facciamo andiamo sul numero due tre quattro cinque che sono quattro gioielli piccolini sedici virgola cinque per sedici virgola cinque quattro gioielli ma li trovo di una bellezza quattro totem straordinari di Fabrizio Tedeschi quanto mi offrite? Franco però facciamo il lotto di tutti e quattro no non faccio il lotto di tutti e quattro li voglio dare uno per uno uno per uno sono come i boetti piccolini sai come i piccoli boetti eh? vi ho fatto comprare le piccole opere di boetti a niente vi sto dando guardateli da vicino perché ne li fai vedere da vicino sono dei gioielli allora ditemi voi ditemi voi il mio consiglio è prenderli tutti e quattro vediamo come arrivano le offerte sono quattro gioielli duecento euro per tutti e quattro duecento euro per tutti e quattro prima offerta duecento euro per tutti e quattro duecento euro per tutti e quattro prima offerta oh mamma mia oh mare di telefonate ma sono quattro gioielli duecento euro per tutti e quattro trecento euro per tutti e quattro trecento euro quattrocento euro per tutti e quattro quattrocento euro per tutti e quattro cinquecento euro per tutti e quattro Ma sono quattro gioielli, tutti oli su tela, valgono 1.500 euro l'uno, valgono 1.500 euro l'uno. Siamo a 500 euro, 600 euro per Antonio, 600 euro per Antonio, per tutti e quattro, 700 euro per Maria, per tutti e quattro. 800 euro per tutti e quattro, ma a 1.500 l'uno sono regalati. 800 euro per tutti e quattro, 800 euro per la prima, 800 euro per la seconda, mamma mia. 800 euro, 1000 euro per tutti e quattro, 1000 euro per i quattro gioielli di Fabrizio Tedeschi, 1000 euro per la prima, 1000 euro per la seconda, 1000 euro... Un attimo, guardate li perdete, tutti e quattro in lotto unico, 1000 euro l'uno sarebbe poco, figuratevi 1000 euro per tutti e quattro, 1000 euro per la prima, 1100 euro per la seconda... Un attimo, tanto... Sono in gara due clienti in questo momento... Certo, ma non vi capiterà mai più, questo è ovvio, eh? 1100 euro per tutti e quattro... 1000 euro per tutti e quattro, 1000 euro per tutti e quattro, assegno... 1000 euro per tutti e quattro, 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 1000 euro per tutti e quattro... 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 1.300 assegnati, tutti e quattro iperregalati. O, l'incisione pazzesca di Sant'Omaso, l'incisione storica di Sant'Omaso dell'89, 85 per 70, 2.500 euro il prezzo. 2.500 euro il prezzo. Avanti. Zero cento in cento. Tre offerte entra in gara. Zero cento in cento. Tre offerte entra in gara. Incisione storica di Sant'Omaso del 1989. Cento euro. Cento euro. Cento euro. Duecento euro. Sì, 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 Maria. Trecento è in gara. Trecento euro l'incisione storica. Vi chiedono 2.500 euro. 85 per 70. Incisione storica di Sant'Omaso. 300 euro per la prima. Trecento euro. Trecento euro per la prima. Trecento euro per la prima. Trecento euro per la seconda. ho questa trasmissione. Ho questa trasmissione. Ve la ricorderete per tutta la vita. Incisione storica di Sant'Omaso a trecento cinquanta euro. Assegno. Assegno. Trecento euro per la prima. Trecento euro per la seconda. Poi vi chiedono duemila euro. vi chiedono duemila euro. Trecento euro per la prima. Trecento euro per la prima. Trecento per la seconda. Trecento assegnato. Quattrocento. Quattrocento. Assegnato. Via. Allora, dai, 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 ho fretta perché voglio regalare tutto. Amici, il quadro più bello che abbiamo avuto del ciclo Io sono di pelle di concetto Pozzati di concetto Pozzati è ancora a tremila euro. Ed è pubblicato, storicizzato. Ed è pubblicato, storicizzato. Ed è a tremila euro. Lo assegno a tremila euro. Tremila euro per la prima. Tremila euro per la seconda. No, è un metro per un metro e venti. Non sono i Pozzati Io sono di pelle 20 per 30. È un metro per un metro e venti. Quindi, opera pubblicata, opera pubblicata, opera storica, opera grandiosa di concetto Pozzati, siamo a tremila euro. Tremila euro per la prima. Tremila euro per la seconda. non entriamo in gara, eh? Non entriamo in gara perché a tremila euro siamo in seconda offerta. Tremila e cinque. Per quale? Per questa? Tremila e cinque. Terza offerta. L'opera di Pozzati è vostra. Difendetela. Tremila e cinquecento euro. Terza offerta. L'opera entra in gara. Arrivano i quattromila, Franco. L'opera entra in gara. Quattromila, eh c'è la replica immediata. Quattromila c'è la replica immediata. No, 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 4 e 2 non l'accetto. 4 e 2 non l'accetto. 4 e 2 non l'accetto. 4.000 per la prima, abbiamo 4.500 euro, 4.500, 4.500, 4.500, ma ne vale 15, ma vi rendete conto, concetto Pozzati di questo livello a 4.500 euro? 100 per 120, 4.500 euro, 4.500 per la prima, 4.500 per la seconda, ma ve l'ho detto, vi ricorderete di questa giornata per tutta la vita, vi ricorderete di questa giornata per tutta la vita, 4.500 per la prima, 4.500 per la seconda, 4.500, dai, regalato, regalata un'opera di concetto Pozzati da sogno, vi ricordo che c'è l'opera di vermi a 3.000 euro, vi ricordo che c'è l'opera di vermi a 3.000 euro, l'abbiamo assegnata l'opera di vermi? L'ha assegnata poi a 3.000 euro, ah sì? E allora, vedi, mi sfuggono le cose. Allora, Antonio, quella, quell'opera di Rapetti è pubblicata e vi voglio far vedere un'opera fantastica, al numero 30, questa è da urlo, mamma mia, mamma mia, questa è da urlo, questo è 100 per 80, un'opera di Fabrizio Tedeschi, forse, guardate, il totem più raro, il totem più importante, su fondo azzurro, ma emozionante, questo è un 100 per 80, è un 100 per 80 di Fabrizio Tedeschi, che vi giuro è uno di quei quadri che oggi stanno volando sul mercato mondiale, vi chiedono cifre da paura, vi chiedono cifre da paura, vi chiedono oggi per un quadro del genere di Tedeschi 6.000, 5.000, 6.000 euro, 80 per cento con tre offerte entra in gara, quanto mi offrite? Olio su tela, olio su tela meraviglioso di Fabrizio Tedeschi, olio su tela straordinario di Fabrizio Tedeschi, dai, 500 euro prima offerta, no, no, minimo tre offerte, 500 euro prima offerta, 500 euro prima, faccia mille, mille, no, 800 euro seconda offerta, 800 euro seconda offerta per quest'opera letteralmente preziosa di Fabrizio Tedeschi, 800 euro seconda offerta, totem straordinario di Fabrizio Tedeschi. 800 euro per la prima, 800 euro per la seconda, mille euro, mille euro, mille euro è in prima, ricordatevi questo nome, ricordatevi queste opere, mille euro per un'opera monumentale di Fabrizio Tedeschi, no, no, è in terza offerta, è vostro, mille euro, mille euro, mille due, cento euro, mille euro, poi quando mi ritroverete un'opera di Fabrizio Tedeschi, mille due, mille due, mille due per l'opera di Tedeschi, dai, chi mi offre di più, via, veloci, mille due per la prima, mille due per la seconda, poi, poi, quando mi ritroverete un'opera così di Fabrizio Tedeschi a 15 mila, a 15 mila, a 15 mila, e ci manca niente, ricordatevi che vi ho fatto comprare una delle opere più belle, una delle opere più importanti, un olio su tela di Fabrizio Tedeschi a mille e duecento euro, mille due per la prima, mille due per la seconda, mille due, mille tre, mille tre, mille tre per la prima, mille tre per la seconda, mille tre, mille quattro, mille quattro, do il tempo per replicare, mille quattro per la prima, mille quattro per la seconda, mille cinque, mille cinque, mille cinque, mille cinque per la prima, mille cinque per la seconda, mille cinque, assegnata l'opera di Tedeschi a mille e cinquecento euro. Vi ricordo, vi ricordo che per la gemma di Fabrizio Campanella, quell'opera grandiosa un metro e venti per un metro e cinquanta, mi fate rivedere il Campanella, guardate che meraviglia, un metro e venti per un metro e cinquanta, opera grandiosa di Fabrizio Campanella, siamo in seconda offerta a mille trecento euro, a mille trecento euro e ho il dovere morale, qui con la terza offerta entra in gara e siamo a mille e trecento euro per un'opera pazzesca di Fabrizio Campanella. Vi voglio ricordare che l'occasione storica di oggi è quel mambo del 62. Grazie regia. Vi voglio ricordare che il quadro che rimpiangerete, quest'opera non la troverete a decine di migliaia di euro. Quest'opera non la troverete sul mercato a centinaia di migliaia di euro. Quest'opera la ritroverete a Cipre da capogiro. Io sono dieci anni, dai tempi in cui avete comprato a centocinquanta mila euro il gesto delle mani di Mambo, che non ho la fortuna di presentare un'opera così importante di Renato Mambo. e non ho sentito offerte degne da parte vostra. Dato che mancano 17 minuti alla fine della trasmissione, vi voglio dare l'ultima possibilità su Mambo, l'ultima possibilità, grazie regia, regia. Ritorniamo su quell'opera di Mambo. Ritorniamo su quell'opera di Mambo. Grazie regia. Eccoci qua. Voglio dare agli amici più cari l'ultima possibilità per entrare in possesso a un prezzo ancora piccolo di un gioiello che renderà famosa la vostra collezione nel mondo. Quel quadro, quel quadro, l'opera più importante di Renato Mambo che vi ho presentato negli ultimi dieci anni, renderà la vostra collezione museale e i più grandi mercanti faranno offerte spettacolari per venire in possesso di quell'opera. Ricordatevelo. Ricordatevelo. Se trovo tre amici che mi propongono un'offerta degna per quell'opera la metto in gara come ultima opera di questa manifestazione storica. ma avete l'opportunità di acquisire il quadro della vita. Ma avete l'opportunità storica di acquisire non un quadro di Mambo ma il quadro della vita. Tocca a voi. Voglio sentire se c'è tra di voi chi sa approfittare di un'opportunità epocale. Guardate, ho quattro minuti perché negli ultimi dieci minuti non accetto più le offerte perché non avremmo tempo per sviluppare una gara. Opera fondamentale. Opera per la quale offrire 30.000, 40.000 euro è offrire nulla. C'è un amico. Quanto Maria? No, 10.000 euro mi dice Maria. 10.000 euro mi dice Maria. No, ho bisogno di altri due concorrenti. ho bisogno di altri due concorrenti per entrare in gara. No, no. No, tesoro. Da 10.000 euro l'uno. ho bisogno di 10.000, 20.000, 30.000. No, 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 no. 12.000 non l'accetto. 12.000 seconda offerta 12.000 seconda offerta. No, 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 no. Quanto? Guarda. No, devo sentire l'entusiasmo da parte di tutti. Se sento, se vedo 5-6 telefonate immediate lo metto in gara, ma devo avere 5-6 telefonate di corsa, no, proprio immediate, proprio 5-6 telefonate piene di bramosia e di amore per un'opera epocale. Per un'opera epocale. Ditemi voi, ditemi voi, 15.000. Esattamente. 15.000. 15.000. Precipitatevi, precipitatevi, precipitatevi. 15.000. 16.000. 16.000. 16.000. È vostro. Siamo in terza offerta. È vostro. 16.000. Ma precipitatevi. è l'opportunità della vita. È l'opportunità della vita. Precipitatevi. 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 17.000. Precipitatevi. 17.000. Guardate, è l'opportunità della vita. è letteralmente l'opportunità della vita. 17.000. Chiamerei io gli amici più cari. Chiamerei io i miei figli. Perdere quell'opera significa perdere un'opera immortale. sapete cosa significa un'opera immortale? Immortale. 17.000 per la prima? No, no, aspetto, aspetto, aspetto. 18.000. 18.000. 18.000. Ma di corsa, ma di corsa, a 30.000, 40.000 dovete dire sì. Verrà pubblicata sul libro della Fortezza di Arezzo. Curata da Fabio Migliorati, edizioni Maretti. Siamo a 18.000. Guardate che perdete il quadro della vita. 19.000. Guardate che perdete l'opera della vita. 19.000 euro. Zero. 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 perdete un'opera epocale. Perdete un pezzo di storia epocale. 19.000 per la prima. 19.000 per la seconda. No, lo dico a chi ha partecipato e chi ancora non ha partecipato. 19.000 per la prima. che succede? 19.000 per la seconda. Io lo assegno a 19.000, ma è il più fortunato del mondo. avete commesso, perdendo quest'opera, questo prezzo, avete commesso un peccato mortale. 19.000 ha segnato un miliardo di complimenti, ma letteralmente avete commesso un peccato mortale. letteralmente avete commesso un peccato mortale. Un miliardo di complimenti. Amici, siamo proprio in chiusura. Siamo proprio in chiusura. Quello che è accaduto in questa giornata lo ricorderete tutta la vita. Lo ricorderete tutta la vita. E vi voglio ricordare che per l'opera di Campanella siamo ancora a 1.300 euro in seconda offerta. Siamo ancora a 1.300 euro in seconda offerta. E, dato che ci tengo a voi, vi voglio far guadagnare nella maniera più assoluta. C'erano un mare di offerte per le opere di tedeschi. Questa è un'opera che ha una storia. Che materiale è? Che materiale è, Antonio? Perché olio... Olio su polisterolo. Olio su polisterolo. Sono le opere che lui ha fatto per la mostra in Giappone. Quelle che in Italia non esistono. Totem storico di Fabrizio Tedeschi. Le misure sono... 25 per 89. Io vi do le misure esatte, ma è di una bellezza. Ma è di una bellezza. Sono le opere che lui vende in studio a 5.000 euro ai mercanti. Questa è enorme. È un metro e 25 per 59,5. Un metro e 25 per 59,5. Quando vi dico che questo artista fa la fine di Boetti, vi dico la verità. Tre offerte ed è in gara. Però ho quattro minuti solamente. Tre offerte ed è in gara. 1.000 euro prima offerta. Franco, voglio rivedere e poi... 1.000 euro. Voglio rivedere il campanello che si è fermato a 1.300. 1.000 euro prima offerta. C'è un amico che vuole rivedere l'opera storica di un metro e 20 per un metro e 50 di Fabrizio Campanella. Questa è un'opera esposta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Spoleto, pubblicata in occasione della grande mostra di Campanella a Venezia. è l'opera più importante di Fabrizio Campanella. Si è bloccata in seconda offerta a 1.300 euro. 120 per 150. 120 per 150. Si è bloccata in seconda offerta a 1.300 euro. Chiedo ad un amico vero di non perdere questo gioiello. Di non perdere questo gioiello. 1.300 euro. 1.300 euro. Chi mi fa la terza offerta? 1.500 per l'opera di Campanella. 1.500 per l'opera storica di Fabrizio Campanella. E' vostro, è in gara. 1.500 euro per l'opera storica di Fabrizio Campanella. 1.500 per la prima. 1.500 per la seconda. 1.500 euro assegnata a quest'opera storica di Fabrizio Campanella. 1.500 euro. Veramente un'opera da sogno. Amici, devo chiudere? Devo chiudere, ma questa trasmissione la ricorderete per la vita. Avete potuto acquisire delle opere letteralmente pazzesche, avete potuto acquisire delle opere letteralmente straordinarie e vi faccio i più vivi complimenti per quello che avete potuto acquisire. Un grazie di cuore a tutti i miei collaboratori, Federico, Carmelo per la parte tecnica, oggi un centralino fantastico, Eleonora, Maria, Antonio, Antonio che mi ha seguito in queste due giornate che sono state fantastiche per voi, veramente complimenti. Con tutto il cuore, alla prossima. Grazie.